covid cresce l'incidenza da contagio e il rischio di zona gialla stoppa le concessioni la rabbia dei bagnini pesaresi scomparsi due sedicenni giornata di ricerche a pesaro educazione stradale per i bambini arriva la patente per bici una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa serata di giovedì 11 novembre apriamo con gli aggiornamenti sulla situazione pandemica nella nostra regione marche che ad oggi vengono catalogate fra quelle fra le regioni più a rischio di perdita dello status di zona bianca assieme a calabria e friuli venezia giulia dopo il picco di 301 casi di contagio registrati ieri che non si verificava dalla scorsa primavera oggi i casi sono stati 230 di cui 15 in provincia di pesaro urbino una lieve decrescita ma con numeri sempre molto sostenuti a cominciare da quello dell'incidenza settimanale di 88 casi ogni 100.000 abitanti che è uno dei parametri sforati per l'ingresso della regione in zona gialla secondo l'ultima rilevazione nelle marche i contagi sono aumentati del 67 per cento nell'ultima settimana resta invece da zona bianca la pressione ospedaliera con 91 ricoveri cioè due in meno di ieri 21 dei quali in terapia intensiva oggi purtroppo si è registrato anche un decesso si tratta di un uomo di 80 anni di pesaro è un momento delicatissimo per i circa 160 operatori balneari che lavorano nelle spiagge della nostra provincia è arrivata infatti l'ufficializzazione da parte del consiglio di stato sullo stop alle proroghe per le concessioni balneari a fine 2023 dunque dal 2024 si aprono scenari estremamente incerti per tutta la categoria è una doccia gelata quella che è arrivata sul collo dei circa 160 bagnini che operano nel litorale provinciale fra gabice mare pesaro fano e marotta il consiglio di stato ha ufficializzato l'interruzione delle concessioni dei maniali al 31 dicembre 2023 su tutto il territorio nazionale dunque dal 2024 le spiagge diventeranno terreno di libero mercato ansia e rabbia da parte della categoria degli operatori balneari pesaresi che contavano di ottenere la proroga fino al 2033 la sentenza del consiglio di stato ci ha lasciato basiti veramente gelati perché ha rimesso tutto in discussione e le nostre imprese avevano una prospettiva di altri dieci anni di poter lavorare e di poter investire e spendere energie nelle imprese cosa che ora viene bloccata con questa sentenza perché se ci dobbiamo mettere in discussione fino al 2023 soltanto per due anni nessuno di noi investirà più nulla quindi tutti anche tutti quelli che lavorano con noi fornitori indotto quant'altro si troveranno ad avere azzerati gli ordini questa secondo me è una debacle grossissima per l'economia turistica italiana perché affonderà il turismo balneare visto come oggi e metterà nelle mani di multinazionali o comunque di chi ha di grande rispondibilità di capitali risorse turistiche che fino ad oggi sono cresciute non solo con i capitali ma anche proprio con la vita dei balneari stessi ci sono persone che hanno investito hanno rimodulato la propria vita in base a un rapporto fiduciario che c'era con lo Stato e dallo Stato venivano riconosciuti appunto con il legittimo affidamento di poter condurre questi beni statali e quasi nessun balneare a mia conoscenza ha avuto a nessun balneare è stata tolta la concessione per problemi legati a attività illegali di abusi edilizi o quant'altro quindi sono imprese come il resto delle imprese che vivono del proprio lavoro e si parla di 30 mila imprese su tutto il territorio italiano se parliamo di 10 addetti per impresa sono 300 mila lavoratori che sono a spasso ed ora la cronaca sono in corso appesano le ricerche di due ragazzi scomparsi di 16 anni si tratta di nicola surbinati e emanuele pucci entrambi frequentanti il terzo anno al liceo marconi di pesaro oggi si sono moltiplicati messaggi di ricerca via social su segnalazione della pagina facebook della protezione civile sugli stessi social si sono succeduti anche messaggi di ricerca andata a buon fine ma al momento secondo il nostro ultimo aggiornamento del 18 non risultano comunicazioni ufficiali di ritrovamento la protezione civile ha diramato anche una descrizione di nicola surbinati un ragazzo magro e alto 1,80 m visto nell'ultima occasione vestito con una felpa propaganda viola un giubbotto nero con logo viola e giallo dei los angeles lakers e pantaloni di tuta grigia con una banda nera un immobile e quote societare per un valore di circa 82 mila euro sono stati confiscati a due imprenditori cinesi trentenni operanti nel settore delle confezioni per abbigliamento nella zona comunale di acqualagna a disporre la confisca è stato il tribunale di urbino in seguito alle indagini della locale compagnia della guardia di finanza attraverso accertamenti bancari e indagini i due responsabili sono stati individuati come componenti di un polo imprenditoriale dedito all'evasione fiscale effettuata secondo il metodo fraudodento conosciuto come apri e chiudi cioè la sistematica apertura e successiva chiusura di aziende che in realtà mediante il nuovo soggetto economico subentrante proseguono la stessa attività un sistema che presuppone come le aziende via via succedutesi non versino le imposte venendo di fatto svuotate dei beni al fine di rendere inefficaci le successive procedure di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria e cambiamo radicalmente argomento arriva la mia prima patente si chiamano così i corsi i mini corsi di guida in bicicletta e di educazione stradale per bambini delle scuole primarie un nuovo progetto gratuito che si svolgerà al parco miralfiore organizzato dal comune di pesero dal comando della polizia locale e dall'associazione we bike marche l'evento consiste in un corso dedicato ai più piccoli ai bambini dai 6 ai 10 anni per inserirli in questo bellissimo mondo della sicurezza stradale che li renderà sicuramente più consapevoli del anche della loro figura di di piccoli di cittadini di di fruitori delle strade che adesso fortunatamente sono state abilitate anche ai percorsi in bicicletta e ovviamente questo corso si rende ormai necessario per diciamo quello che è tutta l'evoluzione della mobilità sostenibile noi portiamo avanti un comunque un programma di educazione stradale nelle scuole primarie è molto importante che ci impegna per tutto l'anno scolastico quindi ogni iniziativa che magari diversa no che si come dire si svolge in maniera più creativa all'esterno e per noi è importantissima e diamo volentieri il nostro contributo quindi saremo di supporto a tutto il team che porterà avanti queste quattro lezioni diciamo all'aperto e che addirittura porteranno un piccolo patentino simbolico ai bambini che parteciperanno le iscrizioni scadono il 17 di novembre da domani sarà possibile avere sul sito del comune il modulo e la mail a cui inviare quel modulo che ovviamente va compilato è prima patente chiocciolacomune.pesaro.pu.it e ci saranno degli istruttori qui dell'associazione We Bike Marche con il supporto della polizia locale sono quattro sabati i corsi saranno divisi in due quindi ci si potrà iscrivere al primo corso che sarà 20 novembre e 4 dicembre oppure il secondo corso 27 novembre e 11 dicembre dalle 9 30 alle 12 si svolgeranno le attività qui all'interno del parco Miralfiori i ragazzi verranno suddivisi in dei mini gruppi da circa una decina di persone per ogni istruttore e l'augurio insomma che sia veramente partecipato è un modo anche per promuovere quello che è il parco della nostra città farlo vivere e riempirlo di tanti mini bambini che insomma si approcciano a quello che è la prima patente siamo città della bicicletta ci teniamo molto e a far utilizzare la bicicletta diciamo con consapevolezza anche con rispetto diciamo all'educazione dell'ambiente della strada e di ciò che ci circonda ed ora una nostra intervista è durata infatti poco più di un mese la pensione di Marcella Tinazzi dopo il congedo dalla direzione dell'ufficio scolastico provinciale per la professoressa pesarese già preside di diversi istituti ora si aprono le porte di un incarico al ministero dell'istruzione Marcella Tinazzi porterà un po' di pesaro al ministero Sì ho accettato questa proposta di collaborazione che mi ha rivolto il ministro Bianchi mi ha molto onorato questa proposta e cercherò di dare una mano in questa riflessione che il ministro vuole fare su alcuni dei punti focali nella sua politica userò tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni di lavoro nella scuola della nostra provincia quindi sì forse un po' di pesaro arriverà in qualche tavolo ministeriale anni importanti nei quali Marcella ha ricoperto tutto il percorso possibile partendo lo dicevamo a casa Rossini dai banchi degli elementari per poi salire 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 passare attraverso 23 anni di dirigenza e poi arrivare ai 6 anni di provveditorato Sì devo dire che sono stata a lungo in aule scolastiche cominciando appunto a 6 anni col fiocco e continuando poi a studiare perché comunque è quello che facciamo tutti incarniamo il prototipo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita Sì ho lavorato tantissimo nella scuola ho diretto molte scuole è stata un'esperienza totalizzante dal punto di vista professionale ma anche personale perché sono cresciuta in ambienti estremamente stimolanti dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista umano mi sento molto ricca da quel punto di vista veramente anche molto fortunata Gratificante riconoscimento per la scuola Alberto Manzi di Pesaro Il progetto di tecnologia da loro realizzato troverà infatti posto all'interno dell'Expo 2020 di Dubai il prossimo 13 dicembre Il progetto della scuola pesarese è stato infatti uno dei tre elaborati italiani scelti per partecipare alla finalissima internazionale Ed inaugura sabato 13 novembre alle ore 17 presso la galleria dei fonditori del Miralfiore La mostra era la Montecatini dedicata alla memoria storica dell'ex fabbrica che sorgeva proprio nell'attuale area del centro commerciale Ipercop Nata nel 1917 come filiale della casa madre milanese e demolita nel 1988 la Montecatini di Pesaro ha costituito una delle più grandi realtà industriali della provincia nel campo della metalmeccanica e della fonderia La mostra è realizzata da Macula e Isia Urbino E si svolgerà domenica 14 novembre una camminata di 10 chilometri a completamento del progetto Walk in Progress coordinato dalla palestra Movens e patrocinato da Asur e Comune di Pesaro Si tratta di un invito aperto a tutta la cittadinanza per sensibilizzare al contrasto alla sedentarietà La partenza è alle ore 9 da Piazzale della Libertà per un percorso di 10 chilometri che si snoderà per le vie cittadine di Pesaro E questo weekend ricorre anche la giornata mondiale delle diabete nel centenario della scoperta dell'insulina Per l'occasione Associazione Diabetici Pesaro, Asur e Croce Rossa e Marche Nord organizzano due giornate di controllo gratuito della glicemia rivolta alla cittadinanza Saranno test medici effettuati all'angolo fra Via Branca e Piazza del Popolo nel mattino e nel pomeriggio di sabato 13 novembre e nella mattinata di domenica 14 novembre Continuiamo a darvi appuntamenti perché sabato 13 novembre è anche la giornata mondiale della gentilezza Una virtù che Pesaro celebra attraverso l'Associazione Persona Gentile in un convegno dedicato che si terrà all'hotel Alexander Museum Palace a partire dalle 17.30 La giornata è la giornata mondiale della gentilezza è stata istituita addirittura in Giappone molti anni fa in Italia è arrivato un po' tardi però molte associazioni sono nate molti comuni hanno un assessore alla gentilezza e sono veramente felice che anche Pesaro abbia un assessore alla gentilezza che interverrà alla serata Il programma prevede oltre ai saluti di rito ovviamente una illustrazione dei principi da parte di Vittorio Livi che è il fondatore dell'associazione al quale poi si è subito unito il conte Pino Limarcucci insieme a loro poi farò un saluto io ci sarà l'assessore alla gentilezza che anche lei introdurrà e invierà i saluti del comune poi una bella relazione del professor Rodolfo Battistini sulla gentilezza delle arti visive premieremo poi tre persone che sono particolarmente distinte per atti di gentilezza oggi sempre di più la gentilezza è un valore da diffondere ed è bella la definizione che ne dà Goethe soprattutto è una catena che tiene uniti gli uomini l'uomo non nasce per essere solo può restare solo per difficoltà per situazioni contingenti o per scelte o per drammi ma l'uomo in generale vive nella relazione con gli altri questa relazione con gli altri è importante che sia intonata a questo senso la gentilezza e di condivisione dei problemi Ed ora parliamo di libri si chiama Frammenti di storia l'ultima pubblicazione del giornalista e ricercatore storico Dante Trebbi un vero custode della memoria di fatti e curiosità della città di Pesaro ascoltiamolo in questa intervista Io ho cominciato a scrivere quando Elisei Franco e il direttore, l'ex direttore del messaggero mi ha chiamato un giorno per dire perché non facciamo una piccola rubrica sulla Pesaro Vecchia e mi ha incuriosito e ho cominciato è una storia lunga che è durata più di dieci anni nel tempo poi quando il messaggero è chiuso ho pensato che tutto quello che avevo scritto che era una bella raccolta di fatti, di storie, di personaggi pesaresi non poteva rimanere ad ammuffire nelle scansie delle biblioteche come articolo di giornale allora ho pensato di fare una raccolta la prima raccolta dei primi 250 articoli l'ho fatta nel 2009 con il titolo La Vecchia Pesaro ma poi mi rimanevano altri cinque anni che mi dispiaceva perdere questa occasione allora ho deciso di farne uno nuovo questo nuovo che ho fatto sono racconti che ho dovuto intestare a far metri di storie per non fare confusione con quell'altro però sono curiosità che a chi piace la storia di Pesaro sono interessanti ci sono storie di, come posso dire di fatti avvenuti negli anni la carboneria le prime rivoluzioni sociali gli attentati al Papa cioè sempre fatto qui nell'ambito nostro pesarese e devo dire la verità che mi sono divertito e mi dispiace anche di dover smettermi io ormai comincio ad avere una certa età per cui è bene lasciare perdere chi avrà occasione di leggere questi libri questi due libri vedrà che ogni pagina ha un racconto sintetico perché si è zippato in quanto nel gergo giornalistico bisogna scrivere poco e dire molto chi li legge vedrà che potrà rivivere la storia di quell'epoca e vedere anche per esempio l'epoca fascista grandi manifestazioni grandi opere pubbliche di cui alcune fatte e alcune no però tutto questo fa parte della storia di Pesarese e concludiamo con una notizia di sport perché questo pomeriggio era di scena la nazionale italiana di calcio Under 20 allo stadio Benelli di Pesaro con il pubblico pesarese che ha applaudito dunque gli azzurrini di mister Bollini nella gara valevole per il torneo 8 nazioni dove l'Italia è stata battuta 2 a 1 dalla Repubblica cieca e si conclude qui questa nostra edizione serale della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare dalla nostra prima serata che comincia alle 21.20 con il nostro classico e seguitissimo appuntamento del giovedì quello con lo sport quello col basket quello con l'appuntamento in diretta di Insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro condotto da Marco Cadeddu oggi vediamo quali sono gli ospiti ci sarà il pivot della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Gora Camarà e Mirko Faccenda giornalista e opinionista appuntamento dunque alle 21.20 l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani della provincia di Pesorobino che come sempre vi trasmettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 7.20 e poi con le repliche che vedete in grafica alle 8.15 alle 12.30 alle 14 e alle 18 e domani venerdì anche la giornata del Vallefoglia il Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio appunto di Vallefoglia e non solo che come ogni venerdì va in onda come prima edizione alle 20 e come prima replica alle 23.15 e poi tante repliche come potete vedere in grafica dal sabato al martedì e con questi appuntamenti si conclude questa nostra edizione della telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata con i programmi di Rossini TV grazie a tutti